Per questo viaggio in Italia ho scelto come compagno il viaggio autore Thomas Stearns Eliot, poeta, drammaturgo e critico statunitense, Nobel per la letteratura nel 1948, e il suo libro guida Viaggio in Italia, note prese durante un viaggio di due settimane, svolto nell'estate 1911, in cui ci sono impressioni e opinioni talvolta tanto personali quanto discutibili. Ottava tappa è Modena e la cattedrale, che è il modello più perfetto di chiesa lombarda che ho visto. L'esterno è eccellente nel colore del marmo, sculture di primo ordine, rilievi e riquadri nelle pareti e decorazioni dei bordi di finestre e porte, le sculture all'interno sono più tarde e inferiori, l'interno è mattone di colore tenue, senza copertura. Tutti i portali sono splendidi, ma specialmente quello a nord, uno è circondato da un freggio con i mesi dell'anno.